Giornale Radio Nuova e da qui indirizzati alla database del sistema Target Transity del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli, dal quale si riceverà indietro, se necessario, il messaggio di allarme che segnale il passaggio di un'auto con targa segnalata. Tali telecamere saranno installate su tutti i principali assiviari d'entrata, alla città e alle frazioni. La realizzazione del progetto è stata possibile anche grazie alla disponibilità di alcuni enti del territorio, università, provincia, diocesi, apm, che hanno permesso l'utilizzo di immobili e reti dati utili alla creazione dell'infrastruttura tecnologica. Sentiamo a questo proposito le parole del sindaco di Macerata Romano Carancini. La parola prevenzione, la parola cittadini, la parola sicurezza, intesa non con un'equivalenza immigrazione e delinquenza, che è un concetto assolutamente ridicolo, ma intesa nel senso che piace a noi, e cioè quello di una videosorveglianza che ha rispetto dei cittadini, di una qualità di alcuni luoghi più critici attraverso un intervento di riqualificazione e di rigenerazione, l'intervento contro le ludopatie attraverso ordinanze sindacali che nessun altro in questo territorio o pochi altri hanno preso. Insomma, è una serie di attenzioni che servono a ridurre le paure delle persone, e soprattutto ad essere vicini ai cittadini. Questo è un po' il senso di questo progetto, che peraltro è innovativo, tra i primi in Italia, dopo Trieste e Reggio Emilia, e che cerca di mettere in sicurezza, attraverso il controllo delle targhe, proprio il sistema relativo alle aggressioni, furti e ad altri piccoli reati. C'è un indagato sul rogo che ha distrutto parte dell'azienda Orim di Piediripa di Macerata lo scorso venerdì 6 luglio 2018. Resta dunque l'ipotesi di incendio colposo, sebbene il titolare dell'azienda Alfredo Mancini abbia dichiarato che le cause dell'incendio sono accidentali. Le fiamme partite dal Cappannone C potrebbero essersi originate dalle scintille, a loro volta provocate dalla caduta di un fusto in presenza di sostanze altamente infiammabili. Nel frattempo circa 200 persone hanno preso parte all'assemblea organizzata lunedì dall'Associazione per la Difesa dell'Ambiente e della Salute, chiedendo la delocalizzazione dell'azienda in un'area consona. L'associazione farà di tutto per tutelare i diritti alla salute dei cittadini, ha assicurato il presidente Marco Bernabei. Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato la risoluzione che prevede un presidio permanente delle Forze dell'Ordine all'Hotel House, finanziato in parte dalla Regione Marche, e la richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Interno di farsi carico della gestione operativa del presidio, destinando personale al servizio. La risoluzione segue le comunicazioni della Giunta regionale in vista di un protocollo d'intesa al fine di garantire una maggiore sicurezza ai circa 1.700 residenti del palazzo distribuiti in 480 appartamenti. L'opposizione, contraria alla discussione, non ha approvato il provvedimento. Di fronte a questa vicenda, l'opposizione ha deciso di scappare, ha riferito Fabio Urbinati, capogruppo del PD nel Consiglio regionale. Questo forse perché preferisce alimentare le paure delle persone, assicurandosi così il consenso, invece che garantire tranquillità e sicurezza ai cittadini per bene che vivono a Porto Recanati, anche all'interno dell'Hotel House. Il PD dovrebbe imparare a conquistarsi i voti lavorando con serietà, rispettando la gente, non con questi tentativi patetici di strumentalizzazione politica, ha risposto il portavoce del Movimento 5 Stelle, Giovanni Maggi. E sulle problematiche dell'Hotel House, si è espresso il vicepremier Matteo Salvini in visita a Fermo. Avere un presidio delle forze dell'ordine è utile, ma non è la soluzione dei problemi. Sarà uno dei miei prossimi interventi. In merito alla ricostruzione post-sisma, Salvini promuove l'intervento dei sindaci. Coinvolgeremo i sindaci fidandoci. Non guardo al passato. Ci sono nuove idee, nuove prospettive. C'è la volontà di coinvolgere sempre di più i sindaci. Onori e oneri, compresi. Ma chi sbaglia pagherà. Sul mandato dell'attuale commissario straordinario alla ricostruzione, ora in scadenza, il ministro dell'Interno ha assicurato che nei prossimi giorni si manifesterà l'evidenza delle persone che prenderanno in mano questa vicenda. Giunto nelle Marche per inaugurare due caserme e un commissariato, Salvini è stato salutato con un presidio di protesta promosso dal Comitato 5 luglio. Andiamo contro questo governo perché va contro i nostri ideali per i quali fino adesso ci siamo battuti, ha riferito una giovane dimostrante. L'Ordine degli Infermieri di Macerata è pronto a costituirsi parte civile nel processo sulla violenza denunciata da una donna di 30 anni operata da un infermiere del nosocomio cittadino. Sulla vicenda sono in corso accertamenti ed esami i cui risultati saranno conosciuti a breve. Nel frattempo, da una prima analisi, sono stati riscontrati sul corpo della donna a segni compatibili con una violenza sessuale. L'infermiere è stato sospeso per 30 giorni con apposita determina disposta dal direttore dell'area vasta 3, Alessandro Maccioni. Un 31enne pakistano residente a Monte Cassiano è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I fatti avvenuti a Porto Recanati risalgono al tardo pomeriggio di lunedì scorso in cui la 31enne non si è fermato all'alta dei carabinieri, scattando così l'inseguimento. Poco dopo l'impatto contro un palo che ha arrestato la folle corsa durante la quale il giovane aveva cercato di disfarsi di alcune dosi di cocaina. Una volta uscito dall'auto, i carabinieri hanno rinvenuto in suo possesso circa 3 grammi di cocaina e resti di altra droga nei tappetini dell'auto. Cinque scooter e una vettura sono andati distrutti a causa di un incendio scoppiato nella zona industriale di Santa Maria Parente Civitanova Marche. La zona interessata è quella del deposito comunale dei veicoli rimossi o incidentati in Viagobetti nel recinto della ditta Capozucca, in cui un Opel Zafira e cinque ciclomotori ad essa vicini sono stati inceneriti dalle fiamme divampate stanotte. Risale alle 3.55 la prima segnalazione al 115 da parte del proprietario dell'azienda. I vigili del fuoco hanno accertato che le fiamme sono partite dalla Opel, non escludendosi tuttavia all'ipotesi di rogo doloso. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione. Incontro tra i rappresentanti della regione Marche, del comune di Civitanova, delle ferrovie dello Stato e della Quadrilatero nella sala giunta della provincia per fare il punto sulla realizzazione delle rotatorie del sottopasso alla fine della superstrada 77. Il rappresentante della regione, architetto Nardo Goffi, ha comunicato che nelle scorse settimane è stata trasmessa dalla Quadrilatero e dal comune di Civitanova la documentazione che dovrà essere sottoposta alla prima delle due conferenze dei servizi che con ogni probabilità avrà luogo nei primi di settembre. Nella riunione è stata condivisa la necessità di accelerare i tempi della realizzazione dell'opera. I lavori inizieranno con la costruzione delle rotatorie e l'ammagliamento della viabilità sulle diverse vie della città, perché queste consentiranno l'eliminazione del semaforo che alla fine della superstrada blocca inesorabilmente il traffico con code inaccettabili. E continuiamo a parlare di viabilità. Proseguono i lavori di sistemazione e ampliamento della curva in località Veciola sulla Sarnano Gualdo. La strada, riferisce il presidente della provincia di Macerata, Antonio Pettinari, risultava alquanto scomoda, in particolar modo per i mezzi pesanti, per la presenza di questa strettissima curva che in tale punto crea una costante situazione di pericolo. La scarsa visibilità e la necessità di invadere da parte di tali mezzi la corsia opposta per poter effettuare la curva richiedevano una soluzione non più rinviabile. Altro motivo di compiacimento, aggiunge il presidente, sono i lavori di somma urgenza riguardanti la sistemazione della frana sulla Monte San Martino Amandola, che ormai giunti al termine consentono la normalizzazione della circolazione stradale. Una delegazione della Direzione Generale Politica Regionale Urbana della Commissione Europea, guidata dalla direttrice Vittoria Aliata di Villafranca, ha fatto visita alla città terremotata di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, sopralluogo che ha interessato l'area delle casette e successivamente la zona rossa del centro storico. Ad accompagnare i funzionari dell'Unione Europea sono stati l'assessore regionale alla protezione civile Angelo Sciapichetti, il sindaco di Arquata Leandro Petrucci e il suo vice Michele Franchi, oltre al dirigente del servizio protezione civile David Piccinini. «È stata una visita estremamente importante», ha commentato l'assessore Sciapichetti. «Quanto fatto fino ad oggi è stato apprezzato e condiviso e questo ci conforta». La delegazione si è poi spostata al cantiere Anas per visionare il piano dei lavori per il ripristino della circolazione stradale sulla strada statale 685 delle Treballi Umbre. E ascoltiamo le parole della direttrice del DG Reggio, Vittoria Aliata di Villafranca. «È incoraggiante quello che abbiamo visto, siamo molto soddisfatti. Questa non è una visita di controllo, è una visita di verifica e cioè vediamo come sono stati utilizzati i contributi del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea. 1,2 miliardi di euro che l'Unione Europea ha dato all'Italia per questa situazione gravissima. E oggi vediamo concretamente cosa è stato fatto. La metà circa dei fondi sono stati utilizzati per venire incontro alle emergenze abitative, dunque per queste strutture di emergenza. L'organizzazione della protezione civile e l'organizzazione delle regioni è stata fantastica, fenomenale. Veramente un esempio per tutta Europa». Lo sport. Apriamo ora la pagina sportiva. Gli amici della rata si sono aggiudicati i simboli della maceratese. I marchi SS maceratese, società sportiva maceratese 1922, il logo a forma di ovale e i colori sociali sono stati acquistati dall'associazione guidata dal presidente Giovanni Orlandi per 4.100 euro. Presente all'asta anche una seconda offerente, l'avvocato Marco Carsetti, che rappresentava gli interessi di un privato su cui si è mantenuto il riservo. Quando l'associazione ha aumentato l'offerta di 100 euro rispetto alla base minima di 4.000, il legale non ha rilanciato ulteriormente. L'obiettivo è ora quello di difendere i simboli della società fallita per poi affidarli al comune di Macerata, che provvederà alla loro custodia ed eventualmente alla consegna alla nuova HR maceratese. Passiamo alla palla a volo. Cala il sipario sul mercato del volley potentino con l'arrivo del centrale campione d'Italia Andre Venti, Stefano Trillini. Nativo di San Severino Marche, classe 99, di scuola lube, alto 195 centimetri, Trillini vestirà dunque la maglia bianca-azzurra nella prossima stagione di Serie A2 e crede in banca. L'ultimo arrivo alla corte di Gianni Rosichini è un atleta che il tecnico del volley potentino conosce bene perché lo ha allenato nelle giovanili della lube per anni apprezzandone i progressi sfociati nella conquista di un oro under 17 e un oro under 18 nella stagione 2016-2017, oltre a un oro under 20 poche settimane fa ad Agropoli. Nell'ultima Junior League under 19 giocata all'Eurosuole Forum, Trillini e compagni si sono accontentati di un argento dopo lo stop al photo finish con la Mater Domini. Sono felice per la chance, Rosichini ha creduto in me, voglio dimostrare che ha fatto la scelta giusta, voglio crescere grazie ai consigli dei veterani e cercare di farmi largo con impegno e determinazione, ha riferito il nuovo centrale Trillini. Dopo una stagione coronata dalla salvezza si dividono invece le strade tra il volley potentino e il centrale Graziano Maccarone. La società marchigiana lo ringrazia per la professionalità dimostrata e il contributo in campo augurando all'atleta un futuro roseo. Il tempo nelle marche In chiusura le previsioni meteorologiche per domani, giovedì 19 luglio. Sulle marche avremo un cielo sereno, venti deboli di direzione variabile, temperature in aumento, mare quasi calmo. Termina qui questa edizione del giornale radio che potete riascoltare sul nostro sito radionuova.com Da parte di Marco Morosini in studio grazie per l'ascolto e buon proseguimento.